La prima considerazione che possiamo fare è sicuramente che il protocollo che in giugno il Sindaco Seri ha firmato e sul quale ha espresso con un grande entusiasmo e tanta enfasi l'idea di aver ottenuto un grande successo noi oggi diciamo che in realtà è stata una sconfitta per tutta la città perché in contemporanea l'ospedale Santa Croce viene depotenziato e al tempo stesso il futuro nuovo ospedale di Pesaro perché così ci piace chiamarlo perché di fatto sarà soltanto l'ospedale dei pesaresi non potrà essere raggiunto perché non potrà essere costruita la famosa bretella Quindi insomma adesso lo scenario quale sarà per il futuro? Lo scenario è che se davvero dovesse essere costruito l'ospedale di Pesaro, il nuovo ospedale di Pesaro noi fanesi dovremo prendere l'autostrada, possibilmente a Fenile pare almeno di capire uscire a Campanara, tornare verso in direzione Fano lungo gli interquartieri e finalmente raggiungere Muraglia chilometraggio valutato sulle mappe all'incirca 22 chilometri Questo significa che l'ospedale diventa sempre più irraggiungibile e l'alternativa è sempre comunque la statale Ricordiamo però che in un documento, in una lettera scritta da Seri a Ceriscioli nell'aprile 2017 lui dichiarava che la costruzione della nuova strada era imprescindibile per poter effettuare la costruzione dell'ospedale e che in assenza della strada l'intero progetto doveva essere rivisto, ridiscusso A questo punto quindi il protocollo abbiamo dichiarato nei giorni scorsi diventa carta straccia uno dei punti essenziali che in qualche modo diventava la condizio sine qua non per poter fare l'ospedale è Salta, Salta diventa un altro degli innesimi inganni che ci vengono propinati da quasi 20 anni da questa maggioranza di centro-sinistra che sull'ospedale ci ha sempre fregati noi fanesi Grazie